Se da un lato Albano Carrisi rimarca sempre il suo amore per Loredana Lecciso, dall'altro lato Romina Power sembra essere convinta che il famoso cantante provi ancora un sentimento per lei. E non ne fa alcun mistero, mostrando così di non portare rispetto per la nuova compagna del suo ex marito. Si è venuta a creare una situazione molto difficile a Cellino San Marco. I tre convivono nella stessa tenuta, ma le due donne non si possono sopportare. E l'uomo, che si trova al centro, ha deciso di condividere la vita sentimentale con una, quella lavorativa con l'altra. Ma sarà sempre così, o Romina Power riuscirà a fare nuovamente breccia nel cuore di Albano Carrisi, togliendolo così a Loredana Lecciso. Lei sembra essere molto fiduciosa al riguardo. Lui mi ama ancora, io penso di sì. Se vivi con una persona per trent'anni rimane sempre un collegamento, quell'amore è rimasto sempre. E anch'io lo amo, ha rivelato l'americana in una intervista a Verissimo nel 2020. Lei è una donna decisa, combattiva, che non fa mistero delle sue ambizioni, e adesso il suo obiettivo sembra essere proprio il cantante che si ritrova a dover difendere la sua attuale relazione. Albano Carrisi risponde alle dichiarazioni di Romina Power, confermando il suo amore per Loredana Lecciso. Da poco i due hanno festeggiato 21 anni insieme. Anni che hanno dato vita a due figli. Nonostante questo, però, il cantante di Cellino San Marco non ha mai messo l'anello al dito alla sua partner. Lui afferma di non averne bisogno, e di sceglierla come compagna giorno per giorno, senza sentire la necessità di metterlo nero su bianco. Ma in molti pensano che lui non voglia risposarsi, perché la sua vera e unica moglie rimarrà sempre e solo lei, la prima. Albano Carrisi e Romina Power, si sono incontrati giovanissimi, e non si sono più separati. Lei aveva solo 16 anni quando ha preso parte a Nel Sole, un musicarello del 1967. Ad aspettarla c'era il bel cantante 24enne del Sud Italia, con la sua voce potente e il suo fascino mediterraneo. Un amore che ha appassionato l'Italia intera e che i due hanno deciso di condividere con il loro amato pubblico, diventando una coppia anche da un punto di vista lavorativo. Insieme hanno calcato i palcoscenici rendendo immortale la loro unione con la canzone Felicità, simbolo del loro amore. Ma la vita ha pensato a separarli, e soprattutto la tragedia della scomparsa della primogenita Ilenia. Non hanno resistito, e Romina Power ha scelto di divorziare. Una decisione che Albano Carrisi non ha mai accettato. Da quel momento, a dir suo, sua moglie ha scelto la sua vita. Una vita lontano da lui. E non c'è modo di tornare indietro. Ma queste sono solo parole. Si sa che l'uomo è debole davanti ai sentimenti. Romina è tornata all'attacco, determinata a riconquistare il suo unico amore. Solo il tempo ci dirà se riuscirà nella sua impresa. Intanto, auguriamo buona fortuna alla povera Loredana Lecciso.